The Words, scritto da me. Ah, parlale! No, me la faccio io. Vince il premio della Società delle Arti e della Letteratura quest'anno, Rory Jensen. Non credevo che un libro così piccolo toccasse il cuore di tanti. Ho una storia. Parla di un uomo che ha scritto un libro e poi lo ha smarrito. Che succede a Rory dopo che il vecchio lo ha trovato? Dimmelo. Io vedo tanta verità nel tuo lavoro. Mi hai mentito. Non è ancora finita. Io guardo la mia vita, guardo la tua, guardo la sua. Non sono chi credevo di essere. Pensi che non ci sia un prezzo da pagare? Sono parole nate dalla gioia e dal dolore. Se rubi quelle parole, prendi anche il dolore. Prima o poi arriva un momento in cui devi scegliere tra la vita e la finzione. Le due cose sono vicinissime, ma non si incontrano mai. Tutti facciamo delle scelte nella vita. Il difficile è conviverci. Non lo sai che le parole rovinano tutto? Se volete conoscere il resto della storia, vi dovete comprare il libro.